ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video interattivo benvenuti e bentornati nel mio canale oggi andremo a fare un video che ha come titolo sorprese e novità in arrivo abbiamo tre varianti come potete vedere numero uno pietra rossa numero due pietra arancione numero tre pietra verde scegliete la variante che più vi piace che più vi attira potete anche ascoltarle tutte e tre perché come dico sempre dovete prendere anche se ascoltate una sola variante o se le ascoltate tutte e tre dovete prendere ciò che risuona con voi perché essendo un interattivo è logico che non può non può combaciare con tutte le vite con tutte le situazioni e con tutto quello che può aggirarsi nello specifico nella nostra vita perciò è importante che se ne ascoltate uno e ne ascoltate due e ne ascoltate tre prendiate semplicemente quello che risuona si vede che il resto non è per voi ma è per qualcun altro ricordo che per comodità io parlo al femminile ma il video è adatto a tutti adesso io vado a preparare useremo diversi mazzi mazzi di carte come al solito per cercare di avere un quadro completo sulle sorprese e le novità che sono in arrivo mi raccomando con tutto ciò che risuona nella vostra vita che magari è appena successo o che succede succederà in un futuro vi aspetto tutti nei commenti io comincio a preparare a preparare per la variante 1 benissimo eccoci pronti con la variante numero 1 per tutte le ragazze che hanno scelto la pietra rossa andiamo innanzitutto a vedere cosa c'è vicino a voi intorno a voi andiamo a a vedere quali sono le carte che vi accompagnano in questo preciso momento o in questo periodo vediamo un po benissimo allora sicuramente qui per alcune di voi c'è un cambiamento in atto c'è un cambiamento in atto che per alcuni di voi potrebbe riguardare sia la sfera lavorativa però potrebbe anche riguardare la sfera sentimentale perché quando parliamo della carta che simboleggia la volpe si può parlare di diciamo caratteristiche legate al settore lavorativo ma anche al settore di furbizia diciamo qualche altra persona un amante un tradimento qualcosa che riguarda la sfera sentimentale ricordo che tutto può agganciarsi sia alla sfera lavorativa sentimentale di amicizia e di famiglia dipende voi che situazione vi trovate al momento sicuramente qui abbiamo una situazione che sta per cambiare una situazione che sta per subire un cambiamento una trasformazione un trasferimento potrebbe anche significare qui abbiamo sicuramente voi che avete a che fare nel ripeto con la sfera lavorativa oppure che avete a che fare con qualche situazione abbastanza diciamo un pochino difficile e forse non riuscite a come si dice a disbrigare una situazione che si è venuta a creare magari con il compagno magari con una terza persona che voi state andando a frequentare e sicuramente avete in in procinto di cambiare questo tipo di situazione andiamo a vedere con i miei oracoli quello che succederà quali sorprese abbiamo in serbo sorprese e novità sicuramente la novità principale è un cambiamento allora sicuramente quello che sta quello che avverrà nella vostra vita o sta per per avvenire oppure è appena avvenuto è sicuramente molta energia positiva che vi ha portato lo scoprire un qualcosa all'interno della vostra unione ecco perché dicevo che potrebbe trattarsi sia del settore lavorativo sia del settore sentimentale qui sicuramente abbiamo a che fare con una intuizione che voi avete avuto e sicuramente vi ha dato la possibilità di scoprire un qualcosa che era celato un qualcosa che era nascosto magari qualcuno vi ha nascosto una scappatella vi ha nascosto un'altra relazione sicuramente c'è anche nell'aria una forma di pentimento di questa persona che sta cercando da voi però devo dire che voi vi sentite molto energicamente positive vi sentite molto positive nell'affrontare questa nuova situazione il vostro intuito non ha sbagliato quello che voi ritenevate una percezione ritenevate un sentore si è rivelato essere la verità sicuramente però sta a voi decidere se dare una possibilità a questa persona oppure diciamo lasciarla nel suo lasciare tutto cioè ha deciso di prendere questa strada ha deciso di fare questo passo sta a voi diciamo capire se concedergli diciamo il perdono perché si vede che questa persona è seriamente pentita dello sbaglio che ha fatto però se l'ho fatto una volta è anche vero che lo può fare ancora questo sicuramente voi lo avete preso in considerazione però non vi negate neanche la possibilità diciamo di lasciarvi tutto alle spalle voi continuare con la vostra vita lui con la sua e tutto può andare diciamo può scorrere tranquillamente senza però intaccare il vostro modo di pensare perché voi diciamo siete abbastanza come dire sicura di quello che volete se sbagli una volta per me hai chiuso ma non per questo diciamo questa possibilità non di avere secondo me una relazione o di continuare una relazione con voi ma sicuramente di diciamo perdonare questa scappadella e rimanere in buoni rapporti andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi vediamo se ci danno qualche altra e certo la situazione che vi verrà in in ballo non è delle migliori però vedo che poi con la carta di energie positive riuscirete sicuramente a gestirla alla grande infatti qui vi vede una donna molto molto coraggiosa vi vede una donna abbastanza diciamo come dire che sa il fatto suo sa quello che vuole sa come ottenerlo avete molta forza interiore per superare questo momento sicuramente è stata una situazione che vi ha fatto soffrire perché nella vostra mente già c'era il progetto di creare su una famiglia di creare su una casa con questa persona sicuramente quello che è avvenuto è stato un colpo basso è stato un colpo basso perché sicuramente non ve lo aspettavate però è anche vero che nella vita si deve si deve anche reagire sicuramente voi avete a che fare con una persona che non è stata molto leale nei vostri confronti però è anche vero che voi ve la sapete cavare voi siete una donna abbastanza consapevole di ciò che vuole avete all'interno l'energia che vi serve per poter andare avanti sicuramente troverete dentro di voi la forza che in questo caso non è una forza fisica come dico sempre ma è una forza vitale un autocontrollo una forza d'animo del coraggio spirituale per riuscire a gestire bene questa sofferenza che vi sta portando o che vi porterà questa situazione che verrà allo scoperto e sicuramente riuscirete a trovare la soluzione anche se anche se di fondo voi un po di delusione l'avete provata perché pensavate che fosse la persona ideale per voi fosse la persona che sicuramente sarebbe stata al vostro fianco per sempre vediamo cosa ci dice il mazzo delle coppie vediamo un po se ci dà qualche altra indicazione andiamo a prendere solo due carte infatti questa è una persona che è andata ormai per la vostra mente diciamo al di là della sofferenza voi siete da sola siete pensierosa siete molto riflessiva però è anche vero che già nella vostra indole questa persona è bella che è andata ecco sicuramente al di là della sofferenza che state provando che proverete o che avete provato sicuramente è una persona che ormai fa parte del vostro passato avete molta energia da avete molta energia e molta positività per riuscire a risanare questa situazione dentro di voi anche se siete sola ma non vi sentite da sola perché io vedo una persona sola però abbastanza forte e lui diciamo se ne va per per altri luoghi per altri laghi per altri per altre strade infatti il treno significa che per voi lui è già andato belle che buono vediamo per concludere il sole bellissima carta trionfo vittorio miglioramento schiarita sicuramente dopo questo periodo un pochettino neanche di sofferenza sofferenza sì ma non è una sofferenza proprio che vi logora ecco una sofferenza che diciamo si tramuta più che altro in una delusione però sicuramente riuscirete a trionfare a trovare la vostra strada a trovare il vostro a trovare magari una persona che si possa comportare con voi come voi desideriate sicuramente non è una cosa che avverrà in tempi brevi perché diciamo la batosta è stata abbastanza profonda per voi abbastanza importante però mai dire mai potreste trovare una persona che realmente fa al caso vostro oggi voglio deliziarvi con anche il libro delle risposte e vediamo quando lo apriremo che cosa ha da dirvi variante numero uno ci sono buone ragioni per essere ottimisti giustamente come dicevo prima il sole tutte le carte che sono venute fuori per la vostra variante ci sono buone ragioni per essere ottimisti perché sicuramente al di là dello sconforto che state provando che proverete o che avete provato sicuramente riuscirete alla grande ad andare avanti bene ragazze della prima variante questa è la vostra stesa vi aspetto nei commenti e se vi è piaciuto lasciatemi un like io passo alla variante 2 eccoci alla variante numero 2 per le ragazze le persone che hanno scelto la pietra arancione andiamo a vedere cosa c'è vicino a voi intorno a voi vediamo un po per quanto riguarda sorprese e novità in arrivo diciamo che quelli della variante 1 più che sorprese sono delle novità perché noi quando parliamo di sorprese ci aspettiamo sempre delle sorprese belle vediamo vediamo un po cosa c'è vicino a voi variante 2 allora sicuramente quello che riguarda la variante numero 2 sono delle novità e delle sorprese che voi avrete nell'ambito dell'ambiente dove vivete dell'ambiente dove lavorate dell'ambiente dove voi diciamo passate più tempo sicuramente ci saranno delle sorprese che vi faranno molto piacere magari che vi faranno sentire come felici come delle bambine oppure vi faranno sentire indifese come delle bambine adesso noi andremo a prendere le altre carte per dare una controllata generale prima di dover diciamo dire qualcosa che poi diciamo dovremmo cambiare direzione allora sicuramente siete una persona molto accogliente siete una persona che sa mettere a proprio agio e adesso andiamo a vedere prendiamo tutte le carte e andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri oracoli tutto 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 andremo a mettere tutto sul tavolo quale carte volano perché hanno voglia di parlare diciamo che quello che vedo in prossimità degli oracoli che sono usciti è che qua si parla già di di un cambiamento legato anche in questa variante c'è un qualcosa che andrà diciamo a finire in che senso qua c'è una situazione che riguarda l'ambito in cui vivete riguarda sicuramente o qualcuno della vostra famiglia o riguarda direttamente voi che ha già una situazione di cambiamento per quanto riguarda un'unione diciamo che questa unione è destinata a finire però devo dire che l'ultima carta mi dà dei buoni e di buon auspicio perché al di là della distruzione che mi viene qui ma la distruzione in senso di fine diciamo di questo rapporto di cambiamento di questa situazione familiare che potrebbe essere vostra ma come potrebbe essere qualcuno che fa parte della vostra famiglia una sorella una parente stretta i genitori qualcosa che riguarda sicuramente qualcuno che vive e abita insieme a voi o che è molto vicino a voi sicuramente in questo momento c'è la visione di un cambiamento e della fine di questa unione che purtroppo è stata è scritta nel destino di questa coppia scritta nel destino di questa famiglia ma cambiamento si potrebbe anche definire come non soltanto fra una coppia diciamo di marito e moglie o di fidanzati ma anche a livello di cambiamento proprio strutturale della famiglia non so un trasferimento un cambiamento di un qualcosa qualcuno che si va a sposare sicuramente va a cambiare la struttura della famiglia che fino a questo momento esisteva sicuramente è una cosa scritta nel destino che però non dà una una forma di come dire di dolore di sofferenza ma anzi è un cambiamento e qua parla di distruzione però chiariamo che distruzione noi la vediamo anche come cambiamento in questo in questo momento e perciò questo cambiamento porterà sicuramente ad una ad una sorta di felicità anche se in questo momento voi vedete la situazione come un adesso quasi definisce si definisce meglio la storia sicuramente qui avete voi una forma di demoralizzazione perché vedete che per a causa di questo personaggio che è arrivato nella vostra vita che riguarda sicuramente la sfera lavorativa la sfera che riguarda tutto quello che è il patrimonio tutto quello che è il lavoro tutto quello che riguarda diciamo diciamo sì il potere ma più che potere io direi il patrimonio il lavoro tutto quello che riguarda questa sfera qui diciamo che sta mettendo un po in in un subbuio questa questa situazione di casa voi lo vedete come un nemico questo questo personaggio questa situazione che si sta intrufolando nella vostra famiglia nel vostro ambiente lo vedete come un nemico lo vedete come un qualcuno che in questo momento vi sta togliendo un qualcosa di importante però voi non riuscite a vedere oltre non riuscite a vedere la possibilità che sta dando questa nuova situazione a tutta la vostra cerchia familiare voi lo vedete semplicemente come un nemico ma io non vedo carte che mi fanno pensare che sia veramente un nemico siete voi che lo vedete come un nemico siete voi che lo vedete come una sorta di distruzione di quello che è l'immagine meravigliosa che avete voi della famiglia o dell'ambiente in cui abitate cercate di vedere quello che vi sta offrendo non quello che vi sta togliendo perché sicuramente quello che vi sta offrendo è maggiore di quello che vi sta togliendo ma voi lo vedete come un nemico infatti la vostra diciamo più che altro la vostra sensazione appunto che vi sta togliendo un qualcosa semplicemente per trarne un piacere non per farvi diciamo un qualcosa di bene un qualcosa di buono voi lo vedete come un qualcuno che sta attraendo piacere nel togliervi qualcosa e nel farvi stare male io vi dico invece di no che perché io vedo la carta della felicità e devo dire che anche se non è subito ma sicuramente sarà magari più più in avanti sarà più in là non so come dirvi sicuramente ci sarà una bella sorpresa che voi non vi aspettate o che magari è stata una situazione che voi avete vissuto e a breve ci sarà diciamo la riuscita di questa di questa persona in senso positivo perché voi non riuscite appunto a vedere cosa vi può vi può dare voi state semplicemente vedendo in questo momento quello che vi sta togliendo andiamo a vedere cosa dice la l'ultima carta il diavolo appunto scurità catene sessualità illusione voi sicuramente non vedete vedete le due carte come sono uguali voi non vedete quello che vi può dare vedete semplicemente quello che vi sta togliendo quello che che sta togliendo alla vostra serenità che sta togliendo alla vostra diciamo alla vostra sfera familiare o quantomeno all'ambiente in cui voi state vivendo andiamo a vedere cosa dice il libro delle risposte per voi non dubitarne e avete visto il libro delle risposte difficilmente sbaglia si inquadra sempre con quello che sono diciamo la stesa delle carte io lo uso anche molto nei consulti privati quando mi fate certe domande devo dire che difficilmente si discosta da quello che dice la lettura da quello che dice la il consulto devo dire che non dubitarne significa non dubitare di quello che sta avvenendo cioè quello che il modo in cui voi state vedendo l'evolversi di questa situazione nell'ambito della vostra casa della vostra famiglia sicuramente non è quello che realmente vi darà ma è semplicemente una vostra paura bene ragazze della seconda variante questa è la vostra stesa se vi risuona mi raccomando vi aspetto nei commenti lasciatemi un like se vi è piaciuta io passo alla variante 3 eccoci alla variante numero 3 per tutti coloro che hanno scelto la pietra verde andiamo subito a vedere cosa c'è intorno a voi cerchiamo di stendere tutte le carte subito tranne che non c'è qualcosa che magari dobbiamo dire subito daremo un accenno e poi vedremo il contesto vediamo un po cosa abbiamo per la variante numero 3 bene la variante numero 3 qua già si apre bene qui apriamo la variante numero 3 con una bella chiusura una bella chiusura dettata da tutto ciò che è accaduto di lotte e discussioni diciamo che vi ha portato anche un senso di frustrazione di ansia è sicuramente una situazione che per voi è stata anche abbastanza aggressiva direi diciamo aggressiva per quanto riguarda la situazione morale che vi ha visto coinvolta e sicuramente dopo tutto quello che avete dovuto passare per diciamo mettere a posto anche mentalmente quello che è successo sicuramente abbiamo a che fare qui con una chiusura una chiusura che potrebbe essere stata decisa da voi o magari da qualcuno che è vicino a voi sicuramente qui abbiamo un qualcosa che difficilmente tornerà ad essere come prima perché vedo che ci sono state troppe troppe cose dette o non dette dette male abbiamo anche qui infatti qui le carte che si concatenano una con l'altro sono abbastanza chiare allora qui la scelta che voi avete fatto è stata una scelta che diciamo adesso vi porta ad essere in una situazione di abbandono una situazione di abbandono perché vedo che per tanto tempo voi avete cercato di nascondere quello che era la realtà o quantomeno per altre di voi vi è stato nascosto quello che era la realtà in che senso parlo per ambe due i casi sia per le persone che sono state tradite sia per le persone che hanno tradito qui in abbandono due i casi è stato nascosto il tradimento è stato nascosto il tradimento e ci sono state delle lotte delle discussioni delle situazioni anche abbastanza pesanti da dover gestire che sicuramente hanno portato a una chiusura netta questa chiusura di conseguenza è stata una scelta dettata più che altro dall'orgoglio dall'orgoglio e da una situazione che non si riusciva più a sostenere adesso vi trovate in un totale stato di abbandono vi sentite sola vi sentite abbastanza giù però l'orgoglio la fa da padrone e la scelta che avete fatto o che è stata fatta per voi sicuramente è stata una scelta che più che altro era necessaria era necessaria perché non potevate sicuramente diciamo vivere ancora in in quello stato in quella situazione qui abbiamo a che fare appunto con una donna abbastanza importante una donna abbastanza forte una donna forte che è sicuramente sa come gestire come gestire questa questa storia una donna siete una donna forte carismatica generosa sicura di sé indipendente però in questo momento diciamo che tutto è stato un una una lotta una lotta vera e propria che vi ha portato poi alla chiusura completa diciamo che voi l'avete vissuto come una sconfitta come un fallimento ma sicuramente avete deciso di chiudere questa carta e questa carta simboleggiano la stessa situazione e sicuramente qui abbiamo a che fare adesso con un qualcuno che ha bisogno di di stabilità bisogno di solidità ha bisogno di essere forte di trovare la forza dentro di sé vedete questa persona che tenta di rialzarsi dopo la sconfitta subita dopo la situazione che ha dovuto chiudere sicuramente è una persona che riuscirà a rialzarsi per trovare la forza e trasformarsi in una persona nuova perché sicuramente quello che ha vissuto questa persona quello che ha vissuto è stata una situazione abbastanza pesante ha tentato tante tante volte di andare avanti ha tentato di nascondere l'evidenza ha tentato di far finta di niente ma poi quando ci si trova davanti a uno specchio non possiamo non possiamo far finta di non vedere ciò che accade infatti per quanto per quanto voi abbiate tentato di tirare su questa situazione di tirare su questa questa storia di portarla avanti per quanto vi siete prodicate per riuscire a mettere in sesto questa storia di farla continuare sicuramente l'orgoglio l'ha fatta da padrone vi siete sentire in un certo senso non sconfitte ma a un certo punto vi siete guardate allo specchio e avete detto ma perché io devo subire tanto ma perché io devo sopportare tanto io non voglio più sopportare niente avete tagliato la testa al toro avete deciso di cambiare completamente rotta di cambiare completamente tutto e avete sicuramente deciso di chiudere questa situazione che era diventata completamente insostenibile soprattutto per voi vediamo un po gli amanti legante legame passione avventura appunto anche se diciamo per la persona che ha tradito è stata tradita diciamo che è stato un'avventura una passione di una notte qualcosa del genere sicuramente sicuramente per voi diciamo è stato diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso non ve l'aspettavate pensavate che magari si potesse andare avanti allo stesso modo ma poi diciamo che la pulce nell'orecchio ritorna sempre ritorna sempre e fino a che la pulce si schiaccia e ciao tu e ciao io adesso andiamo a vedere cosa ci dice il nostro libro delle risposte puoi farcela da solo ve l'ho detto io che il libro delle risposte si sposa sempre con tutto quello che è la stesa puoi farcelo da solo sicuramente non avete bisogno di questa persona non avete bisogno di nessuno avete semplicemente bisogno di rialzarvi e cominciare questa trasformazione che per voi sarà una trasformazione abbastanza importante e vi farà diciamo rinascere in una persona nuova sicuramente non tornerete sui vostri passi perché siete una persona molto molto orgogliosa e però in questo caso l'orgoglio fa anche dignità ecco l'orgoglio fa anche dignità perché è finito il tempo dei buoni samaritani basta così ognuno che si prenda le proprie responsabilità bene ragazze della terza variante questa è la vostra stessa se vi è piaciuta lasciatemi un like vi aspetto nei commenti per sapere se risuona nella vostra vita vi ricordo che per contattarmi l'indirizzo di posto lo trovate giù nelle info io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video